Ehi Leila, 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 cusci la sida... Per Amatrice ripartire dalla pallavolo subito dopo il terremoto è stato importantissimo perché praticamente la prima struttura che è stata rimessa in piedi dopo il sisma è stato proprio il palazzetto dello sport ma è stato proprio voluto per riportare i giovani subito a contatto con lo sport quindi per evitare di avere dei pensieri chiaramente negativi, per riunirli, per farli trascorrere nei momenti di gioia. Queste finali di studetto per noi sono importantissime perché innanzitutto portiamo qui per i nostri giovani ma anche per tutta la popolazione degli eventi importantissimi che fanno capire l'importanza dello sport, fanno vedere, ripeto, situazioni diverse perché noi essendo una piccola società viviamo chiaramente delle situazioni ben differenti da grandi società un gioco elevato, quindi è importante ma anche come turismo, come tutto praticamente porta un po' di vita, di vita purtroppo, di giornali di vita da Amatrice. Grazie a tutti! I'm the jungle to the city looking for a bigger crown So I play my bogey for the people of big city But they don't go crazy when I bangin' on my bogey I'm the king of the bogey Hear me when I come baby Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I bangin' on my bogey I'm the king without a crown hangin' losin' a big town But I'm the king of bongo baby I'm the king of bongo boom Hear me when I come baby Hear me when I come They say that I'm a clown making too much dirty sound They say there is no place for little monkey in this town Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm bangin' on my bogey King of the bongo 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 King of the bongo